Perché dici che sei un pittore? Mi piace ripingere, devo farlo. Sono sempre stato un pittore, lo so. Perché non so fare nient'altro e mi creda, ci ho provato. Tu sei Vincent? Sì, il fratello di Theo. Sono Paul Gauguin. Dobbiamo creare una nuova visione, un nuovo modo di dipingere. Ho passato la mia vita da solo, in una stanza. Vorrei trovare una nuova luce per quadri che non abbiamo mai visto. Dentro di me c'è qualcosa, non so cosa sia. Vedo ciò che gli altri non vedono. Non lo vedi che questo quadro è sgradevole? Gli abitanti hanno firmato una petizione contro di te, non vogliono che torni. Sei circondato da persone maligne e ignoranti. Per questo si è tagliato l'orecchio. La sua visione del mondo è spaventosa. Non è così? Sì. Molti dicono che sono pazzo, però. La follia è una benedizione per l'arte. Credi che Dio ti abbia dato il dono della pittura perché tu vive in miseria? Non l'ho mai vista in questo modo. Forse Dio mi fa dipingere per quelli che nasceranno. Dimmi, fratello, sono un bravo pittore? Non sei solo bravo, sei il più grande. Volevo tanto condividere quello che vedo. Ora penso solo al mio rapporto con l'eternità. Volevo tanto condividere il dono della pittura. Volevo tanto condividere il dono della pittura.